Dai mamma, andiamo, facciamo tardi agli allenamenti! Ma come fate ad essere così bravi e murare tutto? Guarda da dove arriva l'attacco! Non invadere! Bisogna immaginare che il muro sia... Come la sbarra di un passaggio a livello! Non invadere i binari! Metti un muro tra te il pericolo! Spike it!